Come sta andando qui a Villadona Antrofeo delle Regioni di Scherma? Direi bene, visto e considerato le previsioni meteo che hanno un po' disincentivato comunque l'affluenza a questa manifestazione anche per la location che per le altre regioni per cui Piemonte, Veneto e Toscana poteva anche essere un po' difficoltosa da raggiungere. Invece fortunatamente i nostri schermisti non si sono arresi e hanno comunque partecipato a questa manifestazione, a questo Master. Ma che cos'è questo Trofeo delle Regioni? Il Trofeo delle Regioni Master è un trofeo che riguarda delle squadre di Master, quindi di persone dai 30 anni fino ai 75 che formano una squadra, nel caso delle squadre maschili deve essere formata raggiungendo 140 anni di età come minimo e che competono tra di loro nelle varie armi, cioè Fioretto, Spada, Sciabola. In questo caso particolare di quest'anno si svolge questa edizione a Villadona che ha già ospitato un Trofeo Regioni invece riservato alla categoria allievi. Quindi abbiamo avuto le promesse della scherma in questa cittadina e in questo momento abbiamo gli ex schermidori agonistici. Ci sono alcuni personaggi anche di una certa rilevanza? Diciamo che ce ne sono, probabilmente ci saranno domani, ma per dare un'idea per esempio Mauro Numa che è stato due volte olimpionico di Fioretto fa parte dei Master e tira di sciabola. oggi non c'è perché come Carabiniere era di servizio e quindi non ha potuto partecipare.